Incidente nella serata di mercoledì 25 maggio, poco dopo le 18, in via Cristofor Colombo, arrivano a Locanavese. Un trentenne di Castellamonte ha perso il controllo dell'Audi che stava guidando. La vettura è andata a scantarsi contro il pilastro di un'abitazione, al civico 40, lasciando a pericolante il tetto sopra l'ingresso. Sul posto sono prontamente intervenuti le agenti di polizia locale di Rivarolo Canavese, i vigili del fuoco volontari di Rivarolo e la Croce Bianca del Canavese. L'uomo, che ha riportato solo alcune contusioni, dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Vrea per controlli. In corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per capire se battere o meno la colonna rimasta pericolante. In ogni caso l'area verrà messa in sicurezza. la croce Bianca del Canavese Grazie.